per le pagelle di monza juventus chi non ha visto la partita dirà che io sono severo nei miei voti chi ha gli occhi fuderati di prosciutto con la faccia di max allegri dirà che io sono prevenuto ma siccome io non sono assolutamente un stimatore né di allegri né un detrattore di allegri ma solo uno che guarda le prestazioni dei giocatori in campo e come i giocatori sono stati messi in campo io non guardo la vittoria di rotto culo di questa sera perché c'è nata veramente di culo perché siamo stati presi appallonate è vero che era sterile come detto nell'analisi ma in monza ci sono stati 20 minuti finali dove la juventus non riusciva a recuperare un pallone come le stelle stanno a guardare però di stelle non ne abbiamo quindi andiamo a snocciolare i voti di questa partita che tanto per cambiare è stata di una noia mortale a parte i primi cinque minuti e gli ultimi cinque però in mezzo c'erano circa 88 87 minuti così lo volevo dire per chi magari non se ne fosse accorto il bello addormentato tra i pali come io ho soprannominato il nostro portiere che spero che a fine stagione venga rottamato pensionato o manato dall'altra parte prende cinque perché perché un portiere che sull'unico tiro in porta a giro a palombella da 40 metri lento prende gol non ci sono scusanti adesso arriveranno i difensori di scesi ma c'aveva uno nel monza davanti c'aveva certo aveva 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 polifemo davanti aveva aveva marcantonio davanti aveva 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 che dorme aveva che dorme e sull'altro tiro che ha fatto sempre il ragazzino che ci ha segnato stava si è riaddormentato e si è buttato un quarto d'ora dopo se il ragazzino prendeva l'incorso dei pali c'è ne prendeva un gol che poteva parare tranquillamente sia il primo che il secondo quindi c'è ne ultimamente non mi sta più piacendo fa buone partite poi improvvisamente fa partite come questa sera dove è vero che non è stato chiamato in causa ma quando vieni chiamato in causa tu devi far vedere che sei portiere della juve e non un portiere d'albergo cinque gatti allora gatti ha fatto una partita diciamo alla chiellini vi ricordate il chiello faceva degli errori incredibili poi si faceva subito perdonare perché gatti è un lottatore e gatti va mantenuto titolare in questa squadra perché questa è una juve di operaia una juve di lottatori una juve di giocatori che non hanno qualità ma che hanno grinta che hanno voglia che hanno che hanno entusiasmo se tu togli un gatti alla juventus e metti al suo posto un danilo giocando con i tre brasiliani fai diventare la difesa della juventus molle e non va assolutamente bene quindi spero che che allegri capisca che gatti è uno che va tenuto in campo poi se poi ti risolve anche le partite dopo aver fatto degli errori enormi perché si è mangiato un gol che anche il miglior calloni perché qualche anno se lo ricorderà avrebbe segnato il miglior pacione vabbè ma non è un centro avanti ci può anche stare fortuna è che quando dopo è arrivato il pallone giusto grazie a una giocata sontuosa di adriano rebio ha fatto il gol io quindi gli do sette non per la prestazione quanto per il gol che ha fatto che ha fatto volare la juventus ah voglio essere entusiasta no fingo essere entusiasta prima però adesso prima in classifica grazie al suo gol sette gatti bremer sei una partita dirigente ordinata sapete che a me piace molto però lo voglio vedere più presente sulle azioni per esempio sul gol l'ho visto un po c'è così giocatore del che doveva marcare gli è un po scappato punazione non è colpa sua ovviamente sui del gol perché ti ho fatto da 40 metri però magari in area i giocatori dovrebbero essere un pochettino più attenti ma comunque sei sulla porta a casa per quello che riguarda sandro che mi è mancato tantissimo guardate come mi è mancato voi non avete idea ho notato che questa sera noi avevamo complice anche una pessima partita di federico chiesa la peggior fascia sinistra della storia intera del calcio mondiale perché la fascia sinistra composta da sandro kostic e il chiesa di questa sera è la peggior fascia sinistra che un essere umano possa vedere una partita di calcio sandro e kostic hanno fatto a gara a chi faceva più passaggi all'indietro credo che abbia vinto di un paio di punti kostic però anche sandro non scherza è tornato io speravo che fosse tornato solo fisicamente sano invece allegri lo farà giocare e questo secondo me vedrete vedrete lo dico stasera in tempi non sospetti dopo una vittoria rocambolesca vedrete che ci farà perdere dei punti quest'uomo perché è un giocatore imbarazzante 5 mckenny l'ho detto più volte quest'anno gli ho dato dei voti altissimi mi stava piacendo tantissimo ma mckenny rimesso nel ruolo in cui giocava con piero il primo anno e nei due anni precedenti con allegri non esiste è imbarazzante è inguardabile non ha i tempi dei movimenti non ha i tempi degli inserimenti e sbaglia e di fatti ha fatto una prestazione pessima la seconda consecutiva che gioca centrocampista ecco perché ci vuole un centrocampista vero compratelo speriamo che lo catelli guarisca perché altrimenti mckenny messo al centro non gioca bene oltretutto snaturando anche cambiaso che dovrebbe giocare a sinistra invece gioca a destra come detto nell'arangi per far giocare kostic 5 mckenny non mi è piaciuto e sapete che io non sono prevenuto con nessuno cambiaso 6 6 e mezzo decidete voi faccio decidere a voi a me è piaciuto molto questo ragazzo fuori ruolo perché non lo fa mai giocare nel suo ruolo entra nel campo quando si allarga mckenny torna sulla fascia quando mckenny si entra nel campo da una mano procurato rigore è uno che difende bene il pallone cerca sempre di saltare l'uomo di proporre bel giocatore mi piace peccato che allegri lo sta snaturando speriamo che non lo rovini 6 6 6 e mezzo vedete voi nicolussi sono contento di vedere che alla seconda esperienza da titolare non ha ciccato la settimana scorsa l'avevo diciamo bocciato perché era stato vittima dell'emozione invece questa sera ha fatto veramente delle bellissime giocate ha proposto gioco verticalizzato ha cercato il tiro ha dato l'assist anche se chiamare assist un calcio d'angolo è un po eccessivo però il calcio moderno quando uno butta la palla che la tocca a uno che fa gollo chiamano assist io non sono d'accordo gli assist sono un'altra roba gli assist li facevano i Roberto Baggio i Del Piero i Zidane i Pirlo quelli erano gli assist ma vabbè ognuno ha la sua concezione di assist fatto sta che al buon Nicolussi do un bel 6 e mezzo adesso vengo a Adrien Rabiot le Francais Denou nostro francese a cui do un bel 8 sonante 8 secco 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 per distacco il migliore in campo in assoluto della partita un giocatore che quando è in serata non ce n'è per nessuno le ripartenze che fa Adrien Rabiot sono meravigliose spettacolari poi quando non perde il pallone veramente guardate al di là del gol bellissimo che gli mancava e sono contento perché l'anno scorso ha fatto 11 gol quindi quest'anno almeno almeno 6 o 7 spero che li faccia ma ce li ha nelle corde senza nessun problema stasera veramente è stato il mattatore veramente della partita questa sera noi se abbiamo vinto noi juventini dobbiamo ringraziare Adrien Rabiot e Cesni il bel addormentato tra i pali deve pagare almeno 10 cene a Rabiot perché se questa Juve non vinceva per la dormita in porta sua perché ci sta che la Juve ha sbagliato che la Juve le stava pressando ma se tu vieni tambureggiato dalla squadra avversaria proprio poi un gol lo prendi ma non da 40 metri a giro lento ok perché ti tuffi un quarto d'ora dopo anche se non capisco dei portieri per me Cesni è un portiere che va pensionato poi voi dite quello che volete fatto sta che l'abbiamo è stato veramente un grande plus per la Juventus questa sera 8 Kostic ah signori non mi smentisce mai mi tolgo gli occhiali ancora non mi smentisce mai Filippo Kostic detto Pippa Kostic non imbrocca una partita che una non ha fatto un cross decente non è mai sceso sul fondo ha fatto più di 20 retropassaggi a Cesni c'è stata un'azione dove eravamo in attacco si poteva buttare un pallone e mezzo per Vlaovic e per Chiesa lui ha passato la palla a Cesni un passaggio indietro di 30 metri a Cesni cioè una roba giocatore inutile che mi vengano a dire quelli che lo difendono che secondo me senza offesa quelli che difendono Kostic di calcio non capiscono niente eh ma perché si schiaccia con Chiesa no 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 è un giocatore che non sa giocare a calcio non ha non sa giocare a calcio non ha i piedi per giocare a calcio a 29 anni giocava nell'Entrac Francoforte che è una squadra di terzo livello in Germania e noi Cherubini e Arriba Bene che non è che sono proprio due cime di mercato sono andati a prenderlo Giuntoli non l'avrebbe mai comprato McKennie scusate Kostic ci metto la mano sul fuoco 4 peggiore in campo per l'ennesima ennesima volta mamma mia Allegri ma fai giocare Ealing Union porca puttana ma fai giocare Ealing Union o rimetti cambiasso a sinistra speriamo che UEA torni perché se no questo che continua a farci giocare Kostic Chiesa e Vlaovic faccio il pacchetto regalo stasera 5 tutti e due non mi sono piaciuti per niente gli do 5 perché gli voglio bene tutti e due perché per potenza Chiesa probabilmente è un grande giocatore Vlaovic incomincia a nutrire qualche dubbio perché c'è il fiuto del gol fa dei gol però poi tutte le volte ragazzi se davano la palla quando giocavano nella Juve se davano la palla a Tevez, a Iguain, a Ronaldo, a Trezeguet a Inzaghi, a chi volete voi cioè questo pallone di centravanti la difendevano e andavano in porta Vlaovic è come Ken quella differenza è che cambia il colore della pelle ma è come Ken Ken fa cagare perché non è capace di difendere il pallone ma la stessa cosa l'ha fatta Vlaovic gli portano sempre via il pallone quando vanno sul contrasto gli portano sempre via il pallone cioè giocatori che non conosciamo non è che glielo porta via Rudiger glielo porta via De Ligt glielo porta via, che ne so, De Vries glielo porta via un giocatore di... no, glielo porta via tutti e quindi secondo me è un giocatore che ha dei problemi non ho ancora capito se sono mentali dopo aver sbagliato rigore o se sono tecnici perché io non sono così competente come molti credono di essere di saperlo dire è un giocatore che però ha dei limiti e non ho ancora capito quali sono vedremo nel proseguo certo è che ha fatto cinque gol in serie A non sono tantissimi per uno che dopo 14 giorni quindi cinque gol per un cento di mani non sono tantissimi bene, quindi cinque a tutti e due Chiesa partita in colore si è nervosito voleva sin gestare doveva fare giocate che non avevano senso perso palloni scolastici non mi piacciono non mi sono piaciuti veramente bocciati tutti e due cinque Milik, Danilo e Ken non hanno inciso sulla partita sono entrati in campo hanno fatto una cagata per ciascuno ha fatto una cagata Milik una cagata Danilo e una cagata Ken cioè hanno perso tre palloni velozissimi però non hanno inciso sulla partita e hanno fatto solo quell'errore quindi gli do SV mentre invece Locatelli gli do doppio SV perché Povelli non ha messo in campo il novantesimo c'è stato il marasma del gol del Monza poi il marasma del gol della Juve non so neanche se ha toccato un pallone Povelli ha detto forse uno non lo so quindi SV e ovviamente era SV anche lui ad Allegri io do 5 sapete che avevo promesso che se la Juventus faceva tre punti gli davo sempre la sufficienza al tecnico stasera contravvengo questa mia regola che ho varato perché non è possibile che continui a mettere i giocatori fuori ruolo non se ne può veramente più cioè non è possibile che per far giocare Filippo Costice lui mette fuori ruolo McKennie e Cambiaso ok? va bene? poi c'è anche il Ling Union non dimentichiamocelo per cui mi spiace 5 a Fabri sono molto contento che per la seconda volta dopo il voto della settimana scorsa do 7 a un arbitro Fabri è stato veramente bravo ha tirato fuori i cartellini quando dovevano essere tirati fuori perché l'intervento di Milica era da kamikaze il rigore ovviamente procurato è a matematico che se dai rigore devi ammonire e poi per il resto ha gestito bene la partita non è cascato nei trannali dei giocatori del Monza che si buttavano per terra ha fatto colore del gioco è stato si è preso la responsabilità sul rigore per la Juve non ha aspettato che il VAR gli dicesse no toglilo, daglielo faglielo vedere sempre sono le responsabilità abito di personalità mi fa molto piacere lo conoscevo poco perché non è che ha abitato tante partite della Juventus però mi è piaciuto 7 forse i migliori in campo sono stati Nicolussi Rabiot ed arbitro pensate un po' perché per il resto come ho detto nella Nazi tutto il resto è noia questa Juve è noia 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 e ho detto noia buonanotte buon weekend se si vede sul canale ciao a tutti